Se vi serve un account modati per GTA 5, per PS3, PS4, Xbox One e PC Vi consiglio assolutamente di passare nella pagina Facebook di Modding Store Troverete il link in descrizione Bello a tutti ragazzi, qui parla Foxound e bentornati nel canale Sono tornato ragazzi con un altro video veramente molto interessante Perché siamo qui per parlare di un argomento davvero interessante L'ho già detto interessante, ho già detto interessante come ho detto ovviamente in tutti i video Perché sì, addirittura c'è gente che nei miei video fa il counter di quanti ovviamente dico nel video Sì, sì, purtroppo c'è gente che fa ovviamente il counter di quanti ovviamente ho detto nel video A dire la verità, e apro una parentesi prima di iniziare il video Che ho risentito tutti i video che ho caricato da quando diciamo ho fatto i video risposta All'ultimo, cioè il video risposta del trailer ufficiale E ho contato, che veramente ho detto tantissime volte ovviamente Cioè io non me ne sono reso conto all'inizio Poi ovviamente dopo aver visto, ecco l'ho detto Dopo aver visto appunto il video di questo, cioè no il video, il commento di questo ragazzo qua Che ha fatto questo commento qua Ho detto no vabbè non ci posso credere che ho detto veramente tutti questi ovviamente Ma che ci crediate o meno non lo faccio assolutamente posta È un mio modo di esprimermi Ovviamente, ecco come appena ho detto Ogni volta che finisco una frase dico questa parola Non so il motivo, non spiegatemelo Nel senso che se ovviamente dirò ovviamente in questo video Non fate, cioè no aspetta il counter lo potete fare Perché questo utente qua l'ha fatto quindi ovviamente può farlo tranquillamente E quindi niente ragazzi, soltanto questo Prima di iniziare il video ho voluto soltanto dire questo Visto che comunque nel video mi è stata detta sta cosa Allora volevo ovviamente chiarire In questo video ragazzi andremo a trattare di un argomento interessante Che ovviamente molti conosceranno, molti forse no Va di moda su YouTube fare questi video qua Del tipo mio padre, cioè il padre di questo ha distrutto la sua PS4 Incredibile, non ci crederete mai e cose del genere Infatti questo tipo di video l'ho preso esattamente da E perché lo dico, perché quando prendo un video da diciamo gli americani Ovviamente lo dico, perché ovviamente YouTube Italia Sapete tutti che la maggior parte delle persone Praticamente prende spunto dagli americani Quindi ovviamente prendendo spunto dagli americani Possiamo dire che i video sono tra virgolette copiati Ma non sempre è così Però in questo caso ragazzi ho preso proprio spunto da Sernandoe Che per tutti gli altri, perché ovviamente mi è stato detto Che la pronuncia di Sernandoe non si dice così ma si dice Sernendoi Quindi pronunciamo Sernendo A posto di Sernandoe E appunto insomma l'ho preso dal suo video qua Perché ovviamente avendo visto quel video qua Questo video qua che vi lascio in descrizione Perché lo dovete assolutamente guardare Ho visto questo video qua e ho visto la persona Che ha distrutto il, diciamo la PS4 Che sembra il padre che appunto distrugge la PS4 Al figlio Voi non ci crederete mai praticamente quello che ho visto nel video Cioè ho visto il padre Che ovviamente entra a caso nella stanza del figlio E gli distrugge la PS4 Ma dobbiamo andare con ordine Il figlio stava semplicemente caso strano Perché ovviamente ragazzi è un fake Si sa che è un fake Nel senso che è fatto apposta quel video là Si vede la telecamera che è stranamente posizionata Perché uno quando gioca alla PS4 Mette una videocamera stranamente addosso alla porta Dove sarebbe entrato il padre Ma comunque tralasciando quello Queste due persone che dovrebbero essere fratelli Ovviamente sono giapponesi Praticamente che succede? Che sostanzialmente loro stavano rivistando fra qualche cosa Insomma giocando tranquillamente con la loro PS4 E cosa succede? Che praticamente il padre alla prima entrata Cioè la prima volta che entra il padre Gli dà una martellata alla PS4 iniziale No oppure non mi ricordo quello che fa adesso La distrugge insomma fa qualcosa Però la PS4 funziona ancora E allora praticamente loro si rimettono a giocare un'altra volta Il padre rientra nuovamente Caso strano tira fuori un martello Che non è che l'hanno posizionato lì No assolutamente Un martello Che praticamente lo trovava lì E distrugge la PS4 con un martello Cioè praticamente c'è il figlio Che praticamente non potete capire la reazione Farò sicuramente uno screenshot Adesso apparirà sul video Della reazione del ragazzo Veramente assurda Cioè nel senso comincia ad urlare Comincia a buttare giù Tutta la c... Tipo c'è l'attacca a panni Che gli scende giù praticamente Perché praticamente dava i cazzotti ai muri Faceva di tutto Perché ovviamente il padre gli aveva distrutto Volontariamente la PS4 È un qualcosa di veramente assurdo Che se voi ci pensate Pensate magari Dici vabbè questo qua è un pazzo Però se dovesse succedere a voi Che magari il vostro padre vi distrugge la PS4 Ovviamente dipende dall'età che avete Perché ovviamente se avete 18 anni Tipo me oppure altre persone Che hanno più di... Hanno più diciamo anni Rispetto a quel ragazzo Che appunto ha fatto nel video Ovviamente insomma Non rientra nel vostro target Diciamo questo video qua Perché ovviamente non è che vi fate distruggere la PS4 al figlio Perché avete tantissimi pensieri Quando arrivate a questa età Che nemmeno ci giocate più ormai alla PS4 Io ci gioco veramente ragazzi pochissimo E poi comunque questo succede Grosso modo Ai bambini Oppure semplicemente Ragazzi di 15-16 anni Infatti questo ragazzo Credo abbia avuto 16-15 anni Che comunque il padre Ti distrugge la PS4 Proprio perché ovviamente Magari stava giocando tanto Oppure non so qualunque altro motivo Però se voi magari avete Che ne so Una PS4 Avete 15-16 anni Magari se entrate nei panni di questo ragazzo Immaginate che il vostro padre Entra con un martello E vi distrugge la PS4 Cioè voi rimanete lì O vi è incazzato E semplicemente fate come quel ragazzo là Ma io credo che la reazione del ragazzo Sia stata veramente troppo eccessiva Perché se voi ci pensate Comunque sia una PS4 Non è la vita Se si può dire così Quindi ovviamente Non è che vi ha distrutto Chissà cosa A parte che la reazione del padre È stata comunque spropositata Perché ovviamente Insomma distruggere una PS4 A un figlio Poi in questo caso ragazzi Sto parlando come se la scena fosse reale Perché nel video è chiaramente fatto apposta Cioè il padre e i ragazzi A mio parere si erano messi Assolutamente d'accordo Per questo video Il padre devo dire che è un buon attore Perché è entrato incazzato Capito Col martello Ha distrutto Ha cominciato a distruggere la PS4 E ovviamente Insomma uno dice Vabbè Questo si è incazzato È entrato così Perché si era incazzato E gli ha distrutto la PS4 al figlio Però è veramente fake Cioè ragazzi Non è che ve lo dico così per dire È ovviamente fake Poi comunque Se voi ci pensate bene Entra questo Il padre qui entra Mentre loro stavano girando Il menu della PS4 Perché stavano appunto Girando il menu della PS4 E non sapevano che fare Come se stessero aspettando Che appunto il padre entrasse Quindi questo è un altro punto a favore Per far dire che il video è fake Però tralasciando quello Quello che stavo dicendo prima È proprio che Se vi entra il vostro padre E vi distrugge la PS4 La vostra reazione potrebbe essere Potrebbero essere tantissime O vi incazzate O semplicemente lo prendete a schiaffi Cosa ovviamente non possibile Però comunque insomma Vi incazzate davvero tanto Cominciate a distruggere casa Perché vi ha distrutto la vostra PS4 Fatemi sapere voi nei commenti Che reazione avreste Però io sinceramente Insomma la mia reazione In caso fossi Stato appunto Che ne so Avesse avuto 14 anni In quel tempo lì Cioè un po' gli anni fa Oppure 4-5 anni fa Ovviamente Io avrei avuto una reazione Non come quel ragazzo Però mi sarei abbastanza incazzato Perché comunque la PS4 Diciamo a quell'età Si gioca tanto Alla PS4 Quindi ovviamente uno ci terrebbe un po' Alla propria console Nel senso che se è entrato padre E te la distrugge Ovviamente uno ci rimane E dice Oddio mi hai distrutto la PS4 Lo odierà per sempre Per tutto il resto della sua vita Comunque devo dire Che la reazione del padre Se fosse ovviamente vera Perché sto mettendo Mi stiamo mettendo sempre L'ipotesi che quel video fosse reale Appunto questo Questo del padre Comunque ha avuto una reazione Veramente troppo spropositata Cioè nel senso È assurdo Che distruggi una PS4 Per un motivo Cioè A parte che comunque Insomma distrugge la PS4 Perché l'hai pagata Perché ovviamente l'ha pagata il padre Non è che l'ha pagata qualcun altro Distruggere poi Quasi tutta la stanza Perché c'erano le casse C'era il coso Il televisore Insomma c'era di tutto In quella stanza L'ha distrutto Ovviamente insomma Cioè lo capiamo subito Che si tratta di un fake Che l'ha fatto ovviamente Per fare ovviamente visual Nel senso che Ha caricato quel video Proprio per mirare A rifarsi praticamente I soldi della PS4 Con quel video Perché ha avuto 7 milioni di visual Una cosa del genere Quindi veramente Veramente tantissime Quindi nulla ragazzi Questo era semplicemente Un video dove vi spiegavo Un po' questa cosa Ovviamente è un video di prova Nel senso che ho voluto Portare questo genere di video Sul canale Ma non aspettatevi Grosso modo una serie Cioè nel senso Se questo video Non arriva a tantissimi like Che so Arriva a 400 500 mi piace Ovviamente non ve la porterò più Perché sto sperimentando Serie nuove sul canale Ragazzi per far Ovviamente portarvi altro Perché comunque ragazzi Ricordate che adesso Il modding sta finendo Quindi magari i video Che vi potevo portare Un po' di tempo fa Magari sul modding E cose del genere Non posso più farlo adesso Quindi ovviamente Insomma le idee scarseggiano E stavo pensando Di portare appunto Video del genere Magari di padri Che distruggono la PS4 Al figlio E farvi sapere La mia impressione E cose del genere Però ovviamente ragazzi Sono tutti i test Che sto facendo Sto facendo appunto Come video risposta Perché come avete visto Insomma ho fatto due video risposta Per vedere un po' Come appunto Andavano questi video risposta Giudicare dai commenti Molti molti Sono rimasti insoddisfatti Da questo video qua Da questo genere di video qua Ma ovviamente ragazzi Non è che per adesso Se ci sono stati tanti dislike Oppure tanti commenti negativi Tante cose negative Non continuerò quella serie Assolutamente Io ho intenzione di continuarla Ma a cadenza veramente Molto limitata Nel senso che non vi porterò Assolutamente video attaccati Di video risposta Perché quelle lì Saranno la serie Una delle tante serie sul canale Ma ovviamente Non aspettatevi un video Al giorno Di questa serie qui Perché ovviamente Voglio cercare Di Diciamo sistemare il tutto Nel senso di portarvi Delle nuove serie Farvi sapere Appunto Vedere se vi piacciono Fatemelo capire Ovviamente ragazzi Lasciando mi piace Perché ovviamente Così posso capire Se ovviamente queste serie Vi possono piacere Oppure no Sono test sperimentali Ragazzi quindi state tranquilli Potete tranquillamente dirmi Cosa ne pensate appunto Qui giù nei commenti Se vedete appunto Che la serie vi piace Fatemelo sapere con un commento Anche perché ci tengo Veramente moltissimo Alla vostra opinione E quindi nulla Spero tantissimo ragazzi Che questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di lasciare un like Perché ci tengo Veramente moltissimo Superiamo i 400 mi piace Ragazzi E fatemi sentire Il vostro supporto Per farmi capire Che questa nuova Possibile serie vi piaccia E inoltre ragazzi Vi invito a passare Nella pagina facebook Di modding store Se non l'avete ancora fatto Perché lì troverete appunto L'account moddati Quindi ovviamente Se siete interessati A acquistarli Potete ovviamente Contattarci Nella pagina facebook Di modding store E quindi nulla ragazzi Noi ci sentiamo In un prossimo video Un saluto da Foxound Bella In un prossimo video